Boccata d'ossigeno per tutti i titolari di negozi e attività commerciali in Lombardia. Da lunedì 12 aprile, col passaggio della Lombardia in zona arancione, tutti i negozi possono riaprire. Le saracinesche delle attività ritenute non essenziali e di alcuni servizi alla persona erano chiuse dallo scorso 15 marzo, quando la Lombardia, come buona parte dell'Italia, era finita in zona rossa. Per quasi un mese commercianti, ma anche parrucchieri e centri estetici, sono dovuti rimanere chiusi. Rispetto alle scorse zone rosse, il governo ha infatti deciso anche per la chiusura di alcuni servizi alla persona in precedenza rimasti aperti nella zona, di massime restrizioni. Il ritorno della Lombardia in zona arancione, con la riapertura dei negozi anche di generi non alimentari, vale in un mese 440,5 milioni di euro. Si tratta del 28,6% rispetto alla normalità senza Covid. La stima è dell'ufficio studi di Confcommercio Milano Lodi, Monza e Brianza. Un mese di zona rossa è costato caro le attività commerciali del turismo e dei servizi, con perdite che ammontano a 1 miliardo e 160 milioni di euro. Sono 17.661 le attività commerciali che potranno riaprire. In Lombardia siamo tornati in zona arancione, ma siamo ancora molto distanti dalla normalità. I cali di fatturato sono ancora importanti per le imprese milanesi, ed è pertanto necessario che ci sia un piano graduale di riapertura di tutte le attività in sicurezza. Questo permetterebbe di far tornare la nostra economia come era nel 2019.